La giornata di oggi anche come ufficio di presidenza abbiamo fortemente voluto questo tema perché è un tema assolutamente attuale, io penso che proprio in relazione al tema scelto per combattere il linguaggio d'odio, per combattere quanto troppo spesso succede sui social, fin dalla più tenera età si possa pensare di dedicare la festa della Toscana a chi ha fatto del linguaggio e con il linguaggio la storia dell'umanità è la storia nostra e quest'anno ne ricorre il settecentesimo anno che è Dante, io penso che nel combattere il linguaggio d'odio, nel combattere certi tipi di svilimento della comunicazione si possa pensare a Dante che con il linguaggio ha costruito la storia del mondo e ha costruito un monumento della civiltà tutta e proprio in occasione di questo ricorrenzo io penso che appunto la festa della Toscana possa essere più che mai dedicata a Dante, la Divina Commedia, a quel linguaggio magnifico, soave con cui Dante ha descritto appunto tutto quello che ci circonda.